Sono Tony Tedesco, nasco a Milano e mi sono formato a Brera in pittura e scultura. Ho fatto conoscere il mio lavoro ai collezionisti e galleristi del quartiere che mi hanno sostenuto ed apprezzato. Un pomeriggio al Bar Giamaica incontrai il maestro D'Angelo che mi invitò a disporre le mie opere in una piccola galleria d'arte di Albissola Marina. Così iniziai a frequentare le botteghe dei maestri della ceramica e a praticare la lavorazione con il mio stile astratto dimensionale. Da allora ho collaborato con ceramisti storici che hanno lavorato con artisti di fama internazionale come Fontana, Comodoro, Yord, Scanavino, Buonalumi. A Milano ho lavorato presso la bottega storica di Rossicone dove ho realizzato piatti, vasi e sculture. Ad Albissola ho lavorato la San Giorgio, dal maestro Poggi sono stato invitato per realizzare un pannello per il museo a cielo aperto di Ellera. Attualmente invece sto lavorando nel mio studio di Albissola Superiore in Via della Rovere e alle ceramiche Hernan sto collaborando con il maestro Caneper realizzando piatti di varie dimensioni e piccole piastrelle per composizioni astrate che ora vi mostro. Ecco Un cordiale saluto 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 Un cordiale saluto